buongiorno a tutti sono qui con demostenes floros direttore del centro europa ricerche analista diciamo energetico geopolitico insomma da me particolarmente stimato che ha dato adesso alle stampe questo libro crisi o transizione energetica diciamo che mai libro fu appropriato e più diciamo sul pezzo in questo momento quindi che dire questi giorni sentiamo si sta parlando di price cap si sta parlando di razionamenti insomma sembra un po tutti caduti dal pero per usare un termine colorito in questa situazione ma cosa è successo realmente cioè come siamo arrivati a questa situazione allora noi siamo arrivati in questa situazione per un motivo a mio avviso ben preciso nel senso che se noi vogliamo cercare di affrontare e risolvere il tema del costo dell'energia noi dobbiamo capire per quale motivo i prezzi dell'energia del gas naturale ma non solo hanno iniziato un incremento significativo da marzo 2021 quindi ben prima il famoso 24 febbraio 2022 ora nel complesso noi possiamo dire che le cause di questo incremento sono ascrivibili a tre macro fattori cosiddetti fattori di mercato fattori geopolitici e fattori concernenti la transizione energetica se però io dovesse individuare un fattore su tutti non avrei alcun dubbio la causa principale dell'aumento dei prezzi del gas naturale nel mercato regionale europeo è dovuta al cambiamento intervenuto nelle modalità contrattuali di acquisto della materia prima che cosa vuol dire vuol dire che prima il prezzo del gas naturale noi lo compravamo con dei contratti che in gergo tecnico si chiamano take or pay oil link cioè contratti di lungo periodo 10 15 20 fino a 30 anni dove il prezzo della materia prima del gas naturale era legato al prezzo del barile e si adeguava adesso con un ritardo di due trimestri circa è bene precisare che questi contratti erano in essere dalla fine degli anni 70 ed erano stati voluti da noi paesi consumatori e non dall'ora e dai produttori di allora che non si chiamavano federazione russa bensì addirittura unione sovietica ebbene questi contratti sono stati modificati in contratti cosiddetti gas to gas cioè dove il prezzo del gas naturale viene sostanzialmente contrattato in base a quello che è il mercato la domanda e l'offerta ma l'elemento centrale che ci dobbiamo chiedere è l'aspetto centrale chi è che ha chiesto la modifica di questi contratti è stata l'unione europea a chiedere supportata dagli stati uniti d'america di modificare questi contratti e di passare da dei contratti take or pay di lungo lunghissimo periodo dove il prezzo era legato al petrolio a dei contratti più di breve periodo se non addirittura allo spot con il gioco della domanda e dell'offerta perché l'unione europea ha fatto questo l'unione europea ha fatto questo pensando che così avrebbe ridotto la rendita finanziaria la rendita energetica da parte della federazione russa ora io negli ultimi 10 12 anni ho partecipato a quasi tutti forum nazionali ed internazionali dove il tema dell'energia era centrale ed ho assistito alla discussione dei nostri politici diplomatici dei rappresentanti delle nostre major delle nostre multinazionali e principali multinazionali al mondo e vi posso dire che mentre gli europei chiedevano a gran voce il cambiamento di questi contratti dall'altra parte i russi erano contrari a queste modifiche e spesso e volentieri la gasprom e il rappresentante diciamo dei contratti della gasprom sergei comlev spesso e volentieri ci aveva messo come dire in allerta in merito alle conseguenze alle quali potevamo andare incontro in termini di prezzi e il motivo era abbastanza evidente l'unione europea dipende dall'energia per circa il 60 per cento dei propri consumi cioè dipende dall'estero gli stati uniti d'america invece non dipendono minimamente dall'estero anzi con il fracking sono diventati degli esportatori netti da un paio d'anni a questa parte e il mercato del gas europeo è sostanzialmente gestito da tre multinazionali quella russa quella norvegese e quella algerina con quella russa che copre la fetta maggiore quindi è evidente che in un mercato del genere la posizione della gasprom non poteva che rafforzarsi così come quella delle altre multinazionali e quindi questo è il motivo principale che quindi è ascrivibile alla responsabilità dell'unione europea un solo politico europeo italiano ha avuto il coraggio di riconoscerlo e suo nome è romano prodi che lo disse per la prima volta dall'annunziata a marzo del 2022 e romano prodi ovviamente non ha potuto non dirlo per un motivo molto semplice e cioè perché partecipava a questi forum e al principale di questo il forum eurasiatico di verona era siedeva in presidenza per cui queste cose le ha vissute dal vivo lui come le ho vissute da vivo io che ero tra il pubblico quindi possiamo dire che paradossalmente i russi stavano parlando nel nostro interesse perché chiaramente a loro questo crea un vantaggio perché crea un aumento sostanzialmente del degli introidi no e quindi loro può essere che loro avessero il sentore che ci fosse un disegno dietro queste operazioni cioè vale a dire io stati uniti induco l'europa a legare il prezzo del al cd di rendere il prezzo diciamo come potrei dire a rischio di cataclismi geopolitici creo le condizioni per il quale ci sia un cataclisma geopolitico e quindi alla fine ottengo il risultato voluto cioè mettere in crisi l'unione europea che non è mai stato un partner ma sostanzialmente sempre stato un competitor dall'altro lato ci abbiamo i russi che hanno un vantaggio economico ma hanno tutto da perdere da una perturbazione geopolitica a casa loro già in europa il è chiaro che i russi hanno un vantaggio dal punto di vista di prezzo questo è indubbio e lo stanno avendo e lo stanno avendo basta basta guardare i dati della gasprom la gasprom sta esportando quasi il 40 per cento in meno in europa e i profitti della gasprom sono schizzati verso l'alto in realtà però era anche interesse dei russi mantenere quei contratti perché perché quei contratti sostanzialmente permettevano a chi investiva nel gas naturale gli investimenti sono molto ingenti di poter programmare nel medio lungo periodo per cui c'era un vantaggio reciproco tra la federazione russa e l'unione europea di chi da una parte sapeva che ti avrebbe venduto il gas e dall'altra parte chi te lo avrebbe comprato casomai pagandolo un pochino di più ma avendo la certezza di riceverlo e quindi di non avere il problema delle scorte che abbiamo avuto l'anno scorso e poter programmare dei cicli produttivi poi alla fine assolutamente sì ma i problemi a mio avviso i russi li avevano già individuati e li avevano individuati qualche anno prima sul tema del south stream il gasdoto del sud è lì a mio avviso l'elemento centrale che potremmo approfondire no no assolutamente questo è interessante perché south stream e soprattutto interessava l'italia che diventava sostanzialmente un terminale e poteva diventare anche un hub poi teoricamente di distribuzione dell'energia in europa no cioè noi c'erano stati dei grossi investimenti in tal senso e poi alla fine come sempre siamo rimasti con il cerino in mano come si suol dire la vicenda del south stream è molto interessante ea mio avviso paradigmatica south stream è il progetto di un gasdotto che dalla federazione russa deve giungere sino all'italia attraverso i balcani e questo gasdotto doveva trasportare 63 miliardi di metri cubi un gasdotto quindi più grande del gasdotto sotto il baltico il nostri che ne trasporta 55 e inizialmente il capitale è diviso a metà tra la gas prom e la nostra eni quindi l'italia è ovviamente direttamente interessata ma per dare una valenza europea al progetto in maniera mi avviso intelligente i russi aprono a due compagnie europee una tedesca e una francese diminuisce quindi il peso dell'eni che va al 20 per cento ma entrano francesi e tedeschi proprio per dare una valenza europea al progetto e per far venire meno le critiche di chi appunto riteneva l'italia l'anello debole ricattabile da parte di mosca ebbene il south stream purtroppo salta nel 2014 per le pressioni degli stati uniti d'america sulla bulgaria infatti dal mar nero questo gasdotto doveva uscire appunto dalla bulgaria e lì arrivare fino a attraversare tutti i balcani fino a baumgarten e poi da lì al nostro al nostro tervisio abbiamo una riunione con il governo bulgaro del tempo del primo ministro ore ciaschi e partecipano tre senatori americani due democratici johnson e murphy e un repubblicano mccain che è stato anche candidato che è passato a miglior vita poi frattanto e si esce da questa riunione dove il primo ministro bulgaro strappa letteralmente i contratti già firmati con la gas prom contratti che erano fortemente vantaggiosi per la stessa bulgaria perché si trattava di sconti sul gas si trattava di fidi transito e anche da della costruzione di una centrale nucleare che avrebbe permesso alla bulgaria di avere prezzi dell'energia molto più bassi al tempo la bulgaria aveva dei prezzi assolutamente molto alti per quanto riguarda l'energia per cui quello è l'elemento l'elemento centrale cioè gli stati uniti colpiscono immediatamente il rapporto tra le principali compagnie europee e la federazione russa d'altronde che cosa sta ad indicare south stream diciamo così le contraddizioni esistenti tra i rapporti politici e militari dell'italia e delle principali economie europee con gli stati uniti d'america da una parte e dall'altra i nuovi interessi economici e commerciali delle principali economie europee con la federazione russa porta verso l'eurasia un ultimo aspetto interessante sul south stream si parla spesso dei rapporti tra perlusconi e putin ora io non ho nulla da dire su questi rapporti ma vorrei far notare che il south stream viene inizialmente pensato e progettato con il governo prodi 2 e l'allora ministro bersani alle attività produttive quindi siamo sui 2006 2008 allora south stream come dire emerge come come progetto ecco questo vorrei ricordarlo perché a me pare particolarmente importante poi voglio dire tu hai scritto adesso un nuovo libro tutti questi argomenti tu li trattassi nel tuo precedente libro quindi possiamo dire se un profeta qualcosa del genere in realtà studi analizzi e se le analisi sono corrette le previsioni si avverano è inevitabile non è che ci vuole chissà quale dote diviniatoria basta vedere i dati conoscere la materia e poi l'analisi se corretta porta al risultato desiderato quindi sostanzialmente io devo fare delle opportune semplificazioni perché sono temi assai complessi quindi è come se una manina degli stati uniti avesse in mano un paio di forbici un pezzo alla volta sta tagliando no tutti questi cordoni umbilicali no che legavano la federazione russa all'europa in un progetto che era quasi un progetto di simbiosi no tra questi due mondi io produco tu mi fornisce energia a basso costo con stabilità e regolarità e questo tipo di simbiosi genera dei risultati profiqui e quindi in questo punto e comunque c'era veramente un progetto quasi di indipendenza europea no indipendenza europea di proiezione geopolitica verso l'asia che il mercato diciamo anche per i nostri prodotti di lusso no per la nostra manifatturiera soprattutto perché noi ce lo scordiamo sempre che noi eccelliamo non nella produzione di macchinari per l'industria cosa che ancora i cinesi gli indiani non riescono a fare riescono a copiarci o comunque a vendere quel tecnologia io la definirei un termine che sono spiccia ma sul tipo di tecnologia che poi manda avanti le fabbriche no lì siamo avanti noi ancora noi quindi quel mercato per noi è fondamentale viceversa la russia ci fornisce l'energia e quindi sostanzialmente è un circolo virtuoso dall'altro lato noi abbiamo gli stati uniti che stanno dall'altro lato dell'oceano e che non ne vogliono sapere di rimanere isolati arrivano lì e di volta in volta tagliano tentano in qualche modo di creare mi sembra che ci stiano riuscendo alla grande ci stanno riuscendo molto alla grande e alcuni dati sulla manifattura a mio avviso sono molto interessanti per avere una visione di insieme di come è cambiata la divisione internazionale del lavoro ma permettermi un ultimo un ultimo aspetto sul tema del south stream perché da una parte noi abbiamo gli stati uniti d'america che appunto vogliono rompere il rapporto tra unione europea e federazione russa ma questo però non vuol dire che non esistano anche delle contraddizioni all'interno della stessa unione europea proprio sul tema del south stream mi spiego nel contempo la germania riesce a costruire il nord stream 1 che entra in azione a dicembre 2011 55 miliardi di metri cubi ma la germania non interviene minimamente per difendere l'italia e quel progetto dove era entrata una società tedesca e guarda caso subito dopo si lancia nella costruzione del nord stream 2 raddoppiando il flusso sotto il baltico e sostanzialmente rendendo la germania hub europeo a scapito invece di quella che poteva essere l'italia con il principale gasdotto a sud quindi contraddizioni tra le principali economie europee anche e non soltanto l'atteggiamento degli stati uniti d'america nei confronti dell'unione europea questi due aspetti a mio avviso vanno letti insieme per quanto attiene il rapporto con l'asia e questo mi pare un tema estremamente attuale noi stiamo parlando di energia l'energia segue la manifattura e allora se oggi fosse vivo adamo smith l'adamo smith del ventunesimo secolo che cosa ci direbbe in merito alla divisione internazionale del lavoro noi abbiamo emma marcegaglia che in questi giorni ci dice che il costo dell'elettricità degli stati degli imprenditori americani ed europei è di 1 a 7 in termini di costi bisognerebbe però ricordare la marcegaglia che il peso della manifattura cinese sulla manifattura mondiale secondo i dati di confindustria italiana dell'anno scorso ha superato il 30 per cento nel 1995 quando io terminavo il liceo dovevo scrivermi all'università quella percentuale era del 5 per cento da allora ad oggi è aumentata di sei volte nonostante negli ultimi anni gran parte del tessile che si è spostato in cina è andato via dalla cina perché il costo del lavoro è già troppo alto e sta andando in altre realtà produttive bangladesh vietnam cambogia laos e via dicendo il peso della manifattura tedesca sulla mani della manifattura americana su quella mondiale è sceso al 17 per cento la locomotiva tedesca cioè la locomotiva europea è al 5 9 per cento la nostra italia è al 2 2 per cento cioè se noi sommiamo la prima potenza mondiale gli stati uniti e le due principali manifatture europee l'italia e la germania siamo ancora oltre un 20 per cento al di sotto del peso della manifattura cinese su quella mondiale ecco perché noi oggi abbiamo un mondo completamente diverso e spesso e volentieri rimango basito dall'incapacità della nostra confindustria di riuscire a capire questa nuova divisione internazionale del lavoro e di come collocare il nostro paese in tale contesto ovviamente la critica va rivolta anche al mondo del lavoro e al parlamento questo va da sé quindi ritornando a quello che ha detto un minuto fa è come se ci fosse una piramide alimentare no in cui al vertice ci sono gli stati uniti sotto ci sono le medie potenze europee no quindi germania francia poi in fondo alla catena alimentare c'è l'italia che sostanzialmente subisce no la concorrenza perché qui si parla sempre di europa non ci sono partiti che siamo più europa no i partner europei questo partenariato di fatto non esiste nella sostanza cioè sono tutti competitor tutti competono poi chi ha più potere di agire sulle normative e sulle regole si crea delle situazioni vantaggiose e gli altri sempre a rincorrere a rincorrere a rincorrere in questa corsa sul tapirulan quando poi alla fine sostanzialmente rimani fermo perché poi ecco in questo taglio no dei cordoni ombelicali in questo momento è rimasto un cordone ombelicale che è quello che passa per l'ucraina prima parlando tra di noi tu mi hai detto 28 per cento di riempimento sta all'ucraina in questo momento esatto questo è un aspetto a mio avviso molto preoccupante e anche interessante di cui non parla quasi nessuno in questi giorni tutti festeggiano le scorte che hanno superato l'ottanta per cento le scorte europee anche quelle italiane sono l'ottantatré in anticipo rispetto al primo ottobre e questo è sicuramente un aspetto positivo che per la verità si è sempre verificato nel passato tranne l'anno scorso proprio in conseguenza di quei cambiamenti contrattuali a cui facevo riferimento ebbene noi quale situazione potremmo avere in ucraina abbiamo un paese che indica delle scorte sul 28 per cento quindi delle scorte bassissime l'ucraina avrebbe bisogno almeno di 6 8 miliardi di metri cubi in questo momento di gas naturale che si possono avere solo donandole e sottolineo donandole non prestando le da parte nostra esattamente 8 12 miliardi di dollari o di euro visto che il cambio era mai 11 11 anzi siamo andati anche sotto questi soldi ovviamente l'ucraina non li ha ma si è già messo d'accordo con gli stati uniti d'america per averli ma secondo me li pagheremo noi a questo punto però che cosa potrebbe succedere se l'ucraina non riuscisse a riscaldarsi nelle prossime settimane e l'inverno in ucraina non è come quello nella mia grecia è molto più lungo e molto molto più duro il rischio è che cominci a spillare il gas dai gasdotti che riforniscono anche l'italia come è già avvenuto tra l'altro nel passato se così fosse è chiaro che contratti alla mano la gasporo non potrebbe che chiudere i rubinetti e noi non potremmo dire assolutamente nulla anche da un punto di vista contrattuale e guardate che la gasprom lo vede benissimo guarda i monitor e se ne rende immediatamente conto per cui c'è poco da obiettare vorrei ricordare che questo aspetto ahimè quello di spillare il gas di rubare il gas pagato da noi europei è già avvenuto nel passato più volte e ha determinato delle interruzioni temporanee dalla crisi del 2006 a quella del 2009 in poi anzi alcuni ricercatori dell'ispi quindi non un istituto di ricerca favorevole certamente alla federazione russa hanno quantificato tra gas rubato contratti non rispettati clausole non rispettate in 35 miliardi di dollari i soldi che la gasprom ha perso in ucraina in virtù del gas rubato dagli ucraini questo dal 2009 al 2014 quindi dal colpo di stato del maedan in poi i conti sono esclusi il rischio è che noi quest'inverno ci potremmo trovare in una situazione analoga l'ucraina non riesce a riscaldarsi e ruba il gas che dovremmo invece ricevere noi l'ucraina fino a qualche mese fa vorrei ricordare che riceveva anche gas russo ma non solo dalla russia bensì da paesi europei come la germania che glielo rivendevano questo avveniva anche per la polonia sulla quale sulla quale appunto i tedeschi facevano anche la cresta per dire la verità cioè mentre i nostri giornali scrivevano lo scorso autunno che erano stati interrotti fussi dalla gasprom in realtà questi flussi non erano stati interrotti erano i tedeschi che attraverso quei gasdotti invertivano il flusso del gas che non andava più da est a ovest ma da ovest a est cioè i tedeschi davano il loro gas le loro scorte ai polacchi maggiorando il prezzo mentre i nostri giornali scrivevano che erano stati bloccati i gasdotti Yamal per essere precisi del tempo il problema di fondo no almeno per come la vedo io no che c'è sempre questo concetto che alleggia no il complottismo conspiracy theory no ma se ascoltando tema no ma in generale no quando uno mette in fila no tutta una serie di fatti no quello che esce è un quadro estremamente preciso no cioè si sta costruendo un gasdotto in tutti i modi si tenta di osteggiarlo e poi alla fine quel gasdotto non funziona più non viene più aperto quindi praticamente l'obiettivo alla fine è stato raggiunto cioè qualcuno si era posto un obiettivo a lungo termine ha messo in atto una strategia per ottenere questo obiettivo con varie strade poi alla fine una di queste strade ha portato al risultato perché i russi chiaramente non è stato uno scherzo per loro realizzare perché uno pensa abbiamo fatto i contratti no abbiamo il mondo di libero mercato ok quindi noi facciamo un contratto ci serve questa cosa fa comodo a me fa comodo a te e io riesco a non pensi che dall'altro lato c'è un terzo incomodo che questa cosa qui la vede come il fumo agli occhi soprattutto quando parli di infrastrutture costose come appunto quelle che trasportano il gas naturale cioè qui stiamo parlando di tubi che devono essere posati sotto il fondo del mare quindi una cosa tutt'altro che semplice sono degli investimenti ingenti che ovviamente necessitano anche di tempi di recupero molto molto lunghi ma sul Nord Stream 2 se noi andiamo ad esempio a vedere proprio la questione della posa dei tubi ci rendiamo già conto di come allora la situazione fosse molto pericolosa perché Nord Stream 2 aveva individuato nella società svizzera All Seas quella che doveva posare i tubi e purtroppo non la nostra Saipem che aveva posato i tubi per avrebbe posato i tubi nel senso che il contratto c'era per il South Stream e che ovviamente i russi non hanno la Gasprom non ha di nuovo individuato per il lavoro sul Nord Stream 2 per evidenti ragioni non affidabile quindi ha affidato il lavoro alla All Seas la quale però è stata colpita dalle sanzioni che è una società svizzera è stata colpita dalle sanzioni americane e quindi si è riterata immediatamente lasciando in braghe di tela la Gasprom che aveva già iniziato la posa dei tubi E la Germania E la Germania e cosa sono stati costretti a fare i russi? A richiamare una loro nave da Vladivostok che addirittura è giunta circunnavigando l'Africa per questioni di sicurezza accompagnato da Ben Quindi non passando da Suez Non passando da Suez, bensì facendo il percorso più lungo e più lungo vuol dire che ogni giorno tu perdi centinaia di milioni anche perché il Nord Stream rimane inattivo e questo tragitto lo ha fatto accompagnata da due sommergibili nucleari russi per una questione di sicurezza Perché qualcuno avrebbe dovuto fare uno scherzetto a questa nave diciamo Diciamo così perché doveva fare il viaggio tranquilla Questo per capire come siamo arrivati alla situazione attuale Non è che una mattina qualcuno si è svegliato e ha detto adesso facciamo scoppiare una guerra che tra l'altro era iniziata nel 2014 ma un passo alla volta nei 10-15 anni precedenti Noi avevamo visto una escalation o un tentativo di escalation perché d'altra parte c'era anche chi tentava la de-escalation ma ahimè questi aspetti tra cui anche la posa del Nord Stream 2 alla fine hanno visto prevalere una logica appunto di potenza militarista purtroppo Su questo poi ci ritorniamo alla fine perché ho una domanda per te che esula dalle analisi ma riguarda anche forse più un giudizio personale sulla situazione però quello che mi interessa dire è che quindi noi vediamo un'Europa completamente in balia in questo momento e poi c'è stato proprio un punto di svolto cioè fino a un certo punto l'Europa ha tentato di avere una politica che potremmo definire sovrana poi a un certo punto è successo qualcosa in cui questo peso si è fatto sempre più ingente sempre più ingente fino ad arrivare alla situazione attuale però questo non vale per tutti i paesi dell'area della zona non solo dell'area euro ma dell'area in generale per esempio la Turchia che è ampiamente smarcata da tutte queste logiche l'Ungheria che è un altro paese che è ampiamente smarcato da tutte queste logiche quindi c'è da capire che cosa hanno di speciale questi paesi rispetto agli altri loro fanno una politica sovrana sostanzialmente cioè badano i loro interessi ed è interessante notare che hanno un prodotto interno lordo che è più piccolo o molto più piccolo di quello del nostro paese faccio riferimento al prodotto interno lordo perché all'inizio del conflitto qualche presunto esperto nel nostro paese ha ironizzato sull'ammontare del prodotto interno lordo della federazione russa che sostanzialmente rifletteva quello della Spagna e quindi in pochi giorni noi avremmo visto l'economia russa crollare a sei mesi di distanza le cose sono un pochino diverse però per quanto riguarda l'Unione Europea noi vediamo che appunto l'Ungheria fa i propri interessi nazionali ha appena firmato un nuovo contratto con la Gazprom che le permetterà di poter avere un inverno relativamente tranquillo perché ai vecchi contratti del gas ne ha aggiunto uno nuovo che sostanzialmente le danno la possibilità di scavallare la stagione fredda non solo perché l'Ungheria ha anche la possibilità di dirottare parte di questo gas alla stessa Serbia ma è interessante anche il caso della mia piccola Grecia concedimelo e cioè noi in questi giorni stiamo vedendo che comunque moltissimo greggio russo sta ancora arrivando in Europa anzi il greggio che sta arrivando in Europa da quando sono entrate in vigore diciamo così sono state decise le misure contro il greggio che entreranno in vigore a partire dal primo gennaio del 2023 noi abbiamo un incremento di importazione di greggio russo in Europa e sono soprattutto gli armatori greci o quasi del tutto gli armatori greci che trasportano questo greggio infatti stanno facendo dei grossissimi profitti per cui anche un'economia come quella greca piccolissima e nelle condizioni che sappiamo tutti dopo i vari memorandum riesce comunque a ricavarsi un minimo di spazio di autonomia in politica estera hai fatto l'esempio della Turchia secondo esercito della Nato che è fuori dell'UE e dell'UEM ma che a maggior ragione membro della Nato riesce addirittura a comprare i missili della federazione russa io non chiedo questo al mio paese non chiedo questo all'Italia mi accontenterei di un approccio che io definirei pragmatico in un certo senso e che esca dalle logiche della guerra fredda perché noi non stiamo più vivendo nel contesto della guerra fredda Due domande secche, estemporanee la bilancia commerciale turca cosa ci dice in questo momento? La bilancia commerciale turca segna un più particolarmente significativo cioè in surplus le esportazioni sono molto superiori rispetto alle importazioni e questo nei confronti della federazione russa sta mostrando appunto delle esportazioni turche rispetto alla federazione russa che sono letteralmente esplose nelle ultime settimane e negli ultimi mesi e sta ad indicare molto probabilmente che la Turchia sta facendo delle triangolazioni C'è da dire che nel recente passato la Germania queste triangolazioni le faceva non soltanto con la Bielorussia ma addirittura con la Corea del Nord E un altro aspetto del quale non abbiamo parlato che è proprio una cosa abbastanza telegrafica il price cap sul petrolio per esempio che differenza c'è tra price cap sul petrolio e price cap sul gas? Allora, l'aspetto interessante sul price cap del petrolio che il G7 ha deciso e che ovviamente dobbiamo poi vedere in termini tecnici ma l'aspetto più importante qual è? È quello di mettere un tetto al prezzo del greggio russo che quindi verrà venduto a un prezzo molto più basso rispetto a quello di mercato per fare appunto diminuire le entrate finanziarie da parte della federazione russa Qual è qui il vero tema politico? Perché non è una questione tecnica economica non solo Il vero tema politico è capire se la Cina e l'India parteciperanno a questo price cap L'India è un paese che importava 66 mila barili di petrolio russo nel gennaio del 2022 praticamente nulla e che a giugno del 2022 si ritrova ad importare un milione di barili di petrolio quindi un incremento spaventoso Nonostante le minacce Nonostante le minacce pubbliche aperte dei principali dirigenti degli Stati Uniti d'America ai quali gli indiani sempre pubblicamente rispondono dicendo è un nostro interesse nazionale tra l'altro lo stiamo comprando anche scontato tra i 20 e i 30 dollari Alcuni analisti europei ritengono che questa sia la causa principale cioè una convenienza economica a mio avviso questa è una lettura riduttiva cioè c'è anche un significato politico un segnale politico Perché un segnale politico? Beh io vorrei farvi notare che già il 2 marzo del 2022 cioè una settimana dopo il 24 febbraio Nella Assemblea Generale dell'ONU dove appunto venivano si doveva votare per la condanna dell'intervento della Federazione Russa la maggior parte dei paesi produttori di petrolio e gas naturale i cosiddetti membri dell'OPEC Plus ma anche il primo e il terzo importatore di petrolio al mondo cioè la Cina e l'India si sono astenuti a quel voto e questo una settimana dopo l'intervento russo da allora in poi abbiamo visto sempre più paesi africani e asiatici sganciarsi dalle sanzioni statunitensi ed europee questo per dire che cosa? Per dire che l'obiettivo dell'Occidente soprattutto degli Stati Uniti d'America era quello di isolare la Federazione Russa a mio avviso non solo non stiamo isolando la Federazione Russa ma il rischio è che l'Occidente si stia isolando dal resto del mondo cioè anziché chiudere loro fuori ci stiamo chiudendo noi dentro ci stiamo chiudendo noi dentro e ci stiamo chiudendo con pessimi rapporti tra le due sponde dell'Atlantico che poco alla volta cominciano ad emergere e anche pessimi rapporti all'interno della stessa Unione Europea non si è mai chiesto a nessuno come mai nessun leader africano ha criticato Putin e la Federazione Russa per la questione del grano non c'è stato un leader africano perché anzi si lamentano della questione SWIFT cioè del fatto di avere espulso la Russia dal sistema bancario internazionale che non permette loro di commerciare beni primari per quanto riguarda il price cap noi abbiamo visto che questi giorni proprio è stato rinviata la decisione è stata rinviata a un mese per cui già questo è un segno delle diverse posizioni che esistono all'interno dell'Unione Europea dopodiché bisogna capire anche da un punto di vista tecnico in che cosa consisterà perché si legge tutto il contrario di tutto ma anche qui ci sono divergenze di interessi è chiaro che gli olandesi non vogliono mettere un prezzo un prezzo fisso perché hanno la sede di Amsterdam il famoso TTF hanno i loro interessi anche all'interno della Germania esistono visioni divergenti e quindi l'opinione di Draghi non è detto che passerà ma quando anche così fosse il rischio è che un attimo dopo la federazione russa interrompa immediatamente i flussi con tutto ciò che ne consegue in termini di prezzo e in termini di appunto della nostra capacità industriale Adesso una domanda provocatoria però hai citato Draghi in un'unione spontanea ma per chi lavora Draghi? Io credo che Draghi rappresenti gli interessi della finanza e della grande finanza e sia stato messo come primo ministro nel nostro paese Sì, è stato messo solo Sì, sono esplicito sia stato messo e forse qualche partito italiano e qualche ex primo ministro italiano relativamente giovane bene o male il nostro coetaneo è stato anche utilizzato per compiere un'operazione del genere questo oramai è il segreto è il segreto di Pulcinella ma a mio avviso l'aspetto più interessante è perché Draghi in Italia? Perché probabilmente i governi precedenti forse il conte 1 più di tutti avevano visto il nostro paese avere una propria autonomia in politica estera in politica commerciale con la Federazione Russa e con la Cina all'interno delle compatibilità capitalistiche e della stessa Nato vorrei essere chiaro nulla di... Eversivo Nulla di eversivo direi una politica democristiana morotea quindi neanche da centro-sinistra del contesto della guerra fredda ebbene questo nel contesto della crisi mondiale attuale non è più accettabile cioè gli Stati Uniti d'America sono consapevoli che si stanno giocando la supremazia mondiale con la Cina e quindi anche i vari vassalli non possono avere una propria autonomia in politica estera ma devono seguire gli interessi degli Stati Uniti d'America questo è l'elemento centrale di cui dovremmo discutere a mio avviso oggi Non sono ammesse diserzioni No, alcuna E possiamo dire al volo che Draghi è uno degli architetti delle sanzioni? Sì, certamente è uno degli architetti delle sanzioni tant'è che le sanzioni così come i temi del price cap così come del price oil ma anche la stessa logica del market price ma anche la logica dei cambiamenti intervenuti sui contratti del gas naturale di cui parlavo in precedenza i quali i quali non hanno soltanto una valenza politica ma hanno una valenza ideologica Cioè una Questa è la parola chiave la parola chiave Cioè una valenza che va oltre e che a mio avviso porta con sé appunto le politiche neoliberiste degli ultimi 30-40 anni in un contesto di pensiero unico quindi fondamentalmente le riforme sul mercato dell'energia e non soltanto quelle rispondevano a questa logica a una logica ideologica ecco perché oggi è così difficile fare autocritica da parte di colori quali hanno implementato queste politiche e non hanno alcune intenzioni di fare autocritica Certo assolutamente la parola ideologica l'ho inseguita per tanto tempo in questa situazione ma tu l'hai tirata fuori con forza ed è proprio cioè su certe operazioni c'è quasi un fanatismo ideologico cioè io perché manca proprio la ragione cioè lanciatutto sembra che questo mondo terrorizzato perché l'Europa e l'Occidente è terrorizzato di perdere il pallino del gioco sta reagendo con una risposta fanatica e scomposta quasi veramente da ultima spiaggia sostanzialmente cioè hanno messo sul tavolo all in hanno fatto all in stanno mettendo sul tavolo tutto e addirittura secondo me c'è quasi anche l'opzione terminale in questa cosa che è quella di Moia Sansone con tutti i filistei perché io sinceramente cioè una spirale di questo tipo che gira che gira che gira che si sta insomma diciamo autoalimentando io non riesco a immaginare che non possa sfociare in altro che in una catastrofe è una situazione molto pericolosa io credo che noi ci troviamo dinanzi a un bivio multilateralismo da una parte verso il dominio assoluto degli Stati Uniti d'America questo trentennio post crollo del muro e dell'Unione Sovietica e del patto di Varsavia si chiuderà e darà vita alla nascita di un mondo multipolare oppure rimarremo nell'unipolarismo statunitense io credo che oggi sia questo l'oggetto del contendere e gli Stati Uniti d'America non hanno alcuna intenzione di cedere lo scettro tant'è che proprio nel contesto del conflitto in Ucraina non hanno avuto alcun timore nell'andare a Taiwan a provocare così come hanno provocato per cui benzina su ulteriore benzina permettimi una piccola questione sulla parola ideologica se uno andasse a leggere attentamente le interviste di uno dei maggiori esperti di energia del nostro paese il professore Alberto Clò che non è certo un rivoluzionario anzi ha sempre fatto parte della democrazia cristiana poi si è spostato su posizioni di centrodestra nel nostro paese ebbene egli stesso nelle sue interviste dove critica appunto i cambiamenti intervenuti nei contratti e le liberalizzazioni e le privatizzazioni utilizza proprio questo termine la nostra appunto furia ideologica nell'andare verso un pieno dispiegamento delle logiche di mercato per cui tutto ciò che andava contro anche i contratti o il link doveva essere spassato via costi quel che costi spostiamoci un attimo sull'analizzare la questione del gas di scisto che proviene dagli Stati Uniti perché poi tra i tanti aspetti c'è il fatto che gli Stati Uniti hanno trovato un modo di piazzare all'estero il loro gas gas che viene estratto con procedure assolutamente anti-ecologiche gas è stato estratto con un grande sforzo da parte di Wall Street in termini di investimenti che rischiavano di non ritornare indietro sostanzialmente quindi alla fine si vede che tutto il quadro dei vantaggi va tutto in un'unica direzione e io torno a dire chi ha voluto questa situazione è quello che poi ne ha tratto i vantaggi tutto a discapito della federazione russa sì ma è enorme discapito dell'Europa che si ritrova a dover comprare un gas che è meno ecologico che costa di più che ha enormi problemi di logistica vediamo anche la questione del rigassificatore di Piombino io sono stato pochi giorni fa a Piombino e c'è la popolazione che è infuriata quindi c'è sempre la stessa logica parliamo un attimo di questa questione allora facciamo un passo indietro per cercare di contestualizzare storicamente cioè dagli anni 70 dai primi anni 70 in poi gli Stati Uniti d'America vedono una diminuzione nella produzione sia di greggio sia di gas naturale cosa vuol dire questo visto che i consumi aumentavano vuol dire maggiore importazioni dall'estero per cui il rapporto privilegiato con i paesi del Medio Oriente in particolare con l'Arabia Saudita dopodiché attorno alla metà circa della prima decada del nuovo millennio la scoperta del fracking porta un cambiamento rivoluzionario in ambito energetico tant'è che quando Obama vince le elezioni si rivolge a lui il ministro dell'energia statunitense del tempo e gli dice lei lo sa che è il presidente più fortunato da più di 40 anni a questa parte e Obama gli risponde ma per quale motivo ma presidente perché noi avremo da qui a poco un fortissimo incremento della produzione di petrolio e nella produzione di gas naturale come non avevamo dagli anni 70 per cui quello che è apparso anche come il primo presidente green negli Stati Uniti d'America in realtà è tutto tranne che green negli Stati Uniti d'America che allora avevano una dipendenza energetica dall'estero del 20-25% circa cominciano a produrre tight oil e shale gas con il fracking permettimi una battuta Greta non si è mai accorta di tutto ciò ma insomma è giovane avrà modo di riflettere da allora la produzione di petrolio spieghiamo un attimo in due parole come funziona questo processo quantità d'acqua additivi insomma chimici dovremmo stare dieci minuti per evidenziare tutti i problemi giusto per capire perché non tutti lo sanno di che cosa stiamo parlando allora il fracking in che cosa consiste consiste in una perforazione verticale tra i 2 e i 4 mila metri dopodiché ci si sposta orizzontalmente con delle micro esplosioni e a queste micro esplosioni poi si spara anche acqua tonnellate di acqua ad altissima pressione con additivi chimici su tonnellate solo 0,5% su tonnellate e si frantuma la roccia quindi una quantità non trascurabile di additivi chimici che entrano in falda e che può provocare conseguenze sulle falde acquifere anzi negli Stati Uniti ha già provocato problemi del genere si frantuma la roccia e a quel punto lì si riesce appunto con delle tecnologie particolari a estrarre Taitoil cioè greggio shale gas cioè gas naturale tra le conseguenze noi abbiamo ovviamente delle grandi emissioni di CO2 in atmosfera abbiamo appunto perdite di tonnellate d'acqua additivi chimici abbiamo fenomeni sismici nell'Oklahoma i 2-3 fenomeni sismici annuali che l'uomo riusciva a percepire sono diventati 3-400 tant'è che anche negli Stati Uniti d'America in alcune zone il fracking è proibito come è proibito nella stessa Europa tutti questi aspetti non vengono menzionati tant'è che il fracking è più inquinante dello stesso carbone è più emettitore di CO2 dello stesso carbone secondo i determinati ma sono gli scienziati americani che ci dicono ciò è bene è bene precisarlo quindi non solo ma se uno andasse a leggere proprio negli ultimi giorni il sito americano dell'energia l'Oil Price che è il sito mondiale per eccellenza sono gli stessi americani che ci dicono guardate che noi il fracking lo produciamo vari impianti ai quali facevi prima tu riferimento quelli di liquefazione nella costa del Golfo dove i fenomeni atmosferici sono drammatici per cui noi non siamo certi di potervi dare nei prossimi anni con continuità e costanza il nostro shale gas dopodiché nel decennio appena trascorso noi abbiamo anche visto i limiti di questa tecnica produttiva il principale limite di questa tecnica produttiva consiste nello sfruttamento velocissimo di un pozzo cioè un pozzo cosiddetto convenzionale si consuma in media al 5% all'anno il fracking nell'85% nei primi due anni questo cosa vuol dire è che tu devi spostarti continuamente e trivellare per mantenere costante la produzione con grandi punti di domanda e tanti buchi anche sul terreno lasciati che sono visibili anche dalla NASA che ha fatto determinate foto e da queste foto si vede il North Dakota che è una regione appunto dove c'è tantissimo fracking illuminata a giorno per appunto le perdite che noi abbiamo da questi buchi ci sono delle foto che sono veramente rappresentative sono impressionanti da questo punto di vista ebbene noi che cosa rischiamo e lo abbiamo già visto nel corso della metà del decennio trascorso quando gli Stati Uniti hanno avuto un improvviso calo nella produzione di petrolio e di gas e di gas naturale proprio per questi limiti per i limiti finanziari ai quali faccivi riferimento questo vuol dire è che noi ci stiamo legando mani e piedi ad un paese la cui tecnica produttiva nei prossimi 5, 10, 15 anni quasi probabilmente sarà discontinua quindi io mi rivolgo anche agli apparati del nostro Stato che in questo momento staranno sicuramente analizzando la questione della sicurezza energetica io non pongo un problema di Stato non mi interessa se Stati Uniti Federazione Russa Algeria o Qatar è un problema di tecnica produttiva questa tecnica produttiva non va nella direzione della sicurezza energetica dell'Italia questo è il problema che io pongo né più né meno per non parlare poi della questione ambientale quella è devastante che è devastante e a quel punto mi viene in mente l'altro elemento che è un po' il convidato di pietra di tutta questa situazione che è la quotazione in borsa della CO2 cioè quella che è una molecola essenziale per la vita che diventa di fatto una commodity di nonotta si diceva tasseranno l'aria che respiriamo cioè noi emettiamo CO2 la stanno di fatto tassando però paradossalmente noi adesso stiamo allentando sulle quote perché chiaramente se no l'Europa sarebbe stretta da una morsa insostenibile cioè da un lato c'è le sanzioni dall'altro c'è le quote di CO2 che sono vincolate dalle quote e quindi paradossalmente tu devi allentare le quote perché tu in questo momento devi bruciare CO2 con le centrali a carbone perché se no non riesci cioè qui è una coperta troppo lunga o troppo corta sostanzialmente cioè noi prima abbiamo citato Draghi noi siamo passati nel giro di una settimana a parlare di transizione energetica proprio quella di cui parla il libro quasi fosse a portata di mano a dover ridurre i termosifoni di due i due gradi e faccio riferimento a febbraio di quest'anno tutto nel giro di una settimana la verità è che noi non eravamo vicini alla transizione energetica la transizione energetica necessita di anni di decenni e di immensi investimenti che vengono quantificati tra i 90 e i 170 trilioni di dollari l'economia del pianeta il PIL del mondo è di circa 100 trilioni di dollari quindi stiamo parlando di queste cifre la cui domanda principale che però nessun politico fa è chi paga? questa è la vera domanda ebbene tu facevi riferimento giustamente ai certificati di emissione della CO2 cioè quei certificati che devono essere acquistati dalle imprese che inquinano per poi poter emettere quelle che produrono energia esattamente e questi certificati tra l'altro hanno avuto una esplosione di costi nell'ultimo anno ecco perché tra le cause che noi abbiamo individuato inseriamo anche la stessa transizione energetica il ruolo del gas naturale nella transizione energetica è fondamentale il gas naturale svolge e svolgerà il ruolo di ponte dal mondo a combustibili fossili a quello nel futuro di rinnovabili e quindi questo è l'aspetto centrale del quale tener conto sul piano energetico per capire il conflitto attualmente in corso in Ucraina il gas naturale che caratteristica ha rispetto agli altri combustibili fossili emette molta meno CO2 ne abbiamo tantissimo nel mondo per i prossimi decenni se non per il prossimo secolo mi confermi così a Anpassan mi hanno detto un esperto diciamo un consulente che era Agip poi è diventato Eni e che adesso lavora per una compagnia straniera che dice che il Turkmenistan letteralmente galleggia sul più grande giacimento di gas del pianeta in Turkmenistan sicuramente ci sono tante riserve è un paese che ha profonde riserve e negli ultimi anni perché è diventato importante il Turkmenistan perché nell'Unione Europea qualcuno ha suggerito di costruire un gasdotto che avrebbe potuto unire il Turkmenistan all'Azerbaijan quindi alle due sponde del Caspio e da lì arrivare in Europa visto che le informazioni che venivano date sull'Azerbaijan e sulle sue capacità di esportazione erano palesemente false faccio riferimento a certe interviste del Sole 24 Ore ne parlo anche nel libro dove addirittura si fantasticava di un Azerbaijan che avrebbe approvvigionato l'Europa per il 25% dei propri consumi faccio riferimento all'ex ministro dell'energia europeo il tedesco Oettinger quello del scandalo Volkswagen tanto per essere chiari ebbene già dieci anni fa la Russia fu molto chiara tant'è che Simonov che era il presidente del fondo per l'energia russo disse guardate che se costruite questo gasdotto e ovviamente era nell'interesse degli Stati Uniti d'America equivale cito testuali parole a sputare in faccia la federazione russa e la federazione russa risponderà in termini militari per cui già allora come si vede la situazione stava prendendo una piega molto molto grave la verità è che tutti i cinque paesi riveraschi che fanno parte del Caspio decidono sulle varie costruzioni per cui con ogni probabilità questo gasdotto non potrà essere costruito se non con il consenso della federazione russa e del Iran detto ciò il Turkmenistan è un paese che esporta sempre di più verso l'Asia guarda caso sempre di più verso la Cina proprio per i motivi di cui parlavo in precedenza attenzione perché rischiamo di essere sempre troppo eurocentrici noi parliamo ad esempio dell'Iran che adesso è improvvisamente diventata anche una democrazia e che potrebbe sostituire la federazione russa con il suo gas soprattutto se troverà un accordo sul nucleare iraniano io mi auguro che ovviamente lo trovi un accordo perché questo è un elemento di stabilità e di pace ma chi pensa che l'Iran andrà contro gli interessi della federazione russa ha capito poco l'Iran ovviamente si guarderà all'Asia e non a caso stanno sempre più avanzando anche se a piccoli passi ma avanzano le nuove logiche per una OPEC del gas che vedrà federazione russa e Iran insieme ma rispetto al tema sulla transizione energetica di cui parlavamo prima è chiaro che se noi facciamo a meno del gas naturale che è l'elemento ponte e che emette meno CO2 noi dal momento che le rinnovabili non sono pronte per poter essere utilizzate così come noi vorremmo oggi e come qualcuno ci ha erroneamente raccontato dovremmo utilizzare più petrolio e più carbone che emettono più CO2 i dati ci dicono che l'Unione Europea sta appunto utilizzando più carbone a dire la verità l'Italia utilizza poco carbone 5-6% del proprio mix energetico ma dal febbraio del 2022 i consumi scusate le importazioni di carbone dell'Italia dalla federazione russa sono aumentate del 50% tanto per essere chiare importare più carbone vuol dire emettere più CO2 per cui i certificati di emissione di cui parlavi prima dell'Unione Europea che di anno in anno dovevano ovviamente calare per l'obiettivo del 2050 invece in questo momento devono essere necessariamente allargati per poter emettere più CO2 questo quindi che cosa vuol dire Greta muta e tanti passi indietro il rischio di tanti passi indietro sulla transizione energetica sullo sfondo ma neanche tanto la questione dei materiali di base fondamentali per la transizione energetica di cui non parla nessuno ma che sono il nuovo elemento di conflittualità geopolitico sì quindi è chiaro che a me è apparso fin dall'inizio poi le contraddizioni che abbiamo che hai diciamo evidenziato in questo momento denotano perché adesso a quanto pare Putin è diventato più pericoloso del riscaldamento globale quindi si butta a mare tutta una serie di politiche perché diciamo dobbiamo fare male a Putin che a quanto pare è più pericoloso della nostra casa che brucia io ho l'impressione che tutta questa questione legata alla CO2 fosse un vestito che è stato messo una caramella per indorare la medicina che era quello appunto degli obiettivi che stanno raggiungendo in questo momento che sono obiettivi strategici geopolitici militari e che con l'ambiente non c'entrano assolutamente nulla quindi quando ti danno del negazionista del clima come quando ti danno del Novax quando ti danno del Putiniano cioè voler rifiutare la complessità di queste questioni che hanno a che fare proprio con interessi vitali degli stati che agiscono con la propaganda con la manipolazione per indurre le persone ad accettare l'inaccettabile perché chiaramente tutto ciò andrà a impattare sulla nostra vita poi quello che tu dicevi sull'Iran è determinante cioè Iran Federazione Russa e Cina è un tavolo che oramai si regge su tre gambe caduto uno gli altri vanno dietro è chiaro che loro oramai lo sanno perfettamente che la loro stabilità e la stabilità dell'area ma soprattutto la prevalenza rispetto all'Occidente passa necessariamente per la cooperazione e io su questo penso che veramente ci sono pochi dubbi cioè pensare oramai di attrarne uno verso di sé facendo gli offerti se quelli magari ti dicono sì sì ma dall'altro lato sanno perfettamente posso essere ancora più esplicito se vuoi perché ero io presente quindi li ho ascoltati con le mie orecchie ci sono le registrazioni e poi permettermi di aggiungere anche una battuta sul Venezuela ma quello che tu dici cioè l'Occidente che si rivolge alla Federazione Russa e alla Cina cercando di prendere l'uno dalla propria parte e mettere l'altro nell'angolo cioè il contesto che si tentava prima del febbraio del 2022 io spesso e volentieri in questi forum internazionali ho ascoltato la replica pubblica dei rappresentanti della Federazione Russa i quali esplicitamente hanno detto levatevi dalla testa di separarci perché noi abbiamo un rapporto strategico e qui faccio riferimento all'Iran e alla Cina alla Federazione Russa scusate e alla Cina per cui io stesso assistendo a questi forum internazionali appunto ascoltavo i dirigenti russi dirlo esplicitamente alle elite occidentali evitate il tentativo di separarci perché non riuscirete a separarci e infatti abbiamo visto benissimo qual è stato il comportamento della Cina dal 24 febbraio in poi c'è stato un momento in cui il portavoce del ministro degli esteri cinesi negli ultimi mesi è stato più duro nei confronti della Nato e delle cause del conflitto in Ucraina dei russi e di Papa Francesco messo insieme oserei dire si è abbandonato la solita tradizione felpata cinese è andato giù veramente anche con ironia con sarcasmo direi ma ha un significato politico questa ironia e questo sarcasmo di cui noi ci dovremmo rendere conto ma facciamo molta molta fatica ecco purtroppo secondo me questo è il nostro drammatico limite quello di pensare che il mondo è finito nel 1989 91 che Francis Fukuyama e la fine della storia fossero la verità mentre la storia è andata avanti ha presentato vecchie nuove contraddizioni e noi oggi non lo vogliamo accettare e la risposta dell'Europa se mi permetti prima appunto facevi riferimento al tipo di risposta dell'Europa a mio avviso pare anche isterica in alcuni casi una piccola considerazione prima facevi riferimento all'Iran noi siamo arrivati al punto in cui gli Stati Uniti d'America hanno sollevato le sanzioni a alcuni prodotti petroliferi della PDVSA la compagnia di stato venezuelana e sono andati a comprare prodotti appunto da Venezuela hanno permesso alla Repsol spagnola e all'Eni di importare dei prodotti petroliferi dal Venezuela tutto questo in funzione ovviamente antirussa e questo insomma la dice di gran lunga insomma molte cose ci avviamo alla conclusione con la domanda che era rimasta in sospeso prima mi sarebbe piaciuto affrontare anche la questione dell'Artico che è cruciale in tutta questa situazione purtroppo non se ne parla perché l'Artico veramente è una delle partite del futuro anche l'ingresso della Finlandia e della Svezia nella Nato è in chiave Artico sostanzialmente l'Artico lo sanno tutti zeppo di risorse con la federazione russa che la fa la padrone perché ci gira praticamente intorno lì ci sono petrolio gas naturale materie prime c'è una partita colossale magari l'affronteremo in un'altra circostanza non so se vuoi dire una battuta al volo se c'è una cosa che si può dire in due parole sull'Artico sostanzialmente sulla partita dell'Artico la partita dell'Artico permetterà sostanzialmente alla federazione russa di poter rifornire le principali economie asiatiche perché stiamo parlando di beni che partiranno dall'Artico diciamo così dalla zona nord-occidentale della federazione russa e andranno nella direzione dell'Asia e dell'Asia Pacifico con dei tempi e dei costi enormemente ridotti rispetto a quelli attuali perché una volta era costoso estrarre adesso con le nuove tecnologie ma soprattutto dovevi fare anche degli altri giri con i cargo e i tempi di riduzione sono di da tre settimane a una settimana quindi una riduzione dei costi impressionante pensate voi a delle navi cargo con tonnellate tonnellate di greggio che devono fare tragitti e che invece di avere dei costi da 21 giorni hanno soltanto dei costi di una settimana con tutto quello che vuol dire in termini di competitività dell'Asia nei confronti dell'Occidente questo mi sembra l'elemento centrale tant'è che già oggi si parla di delocalizzazione delle imprese nei luoghi dove c'era il costo della mano d'opera adesso è il costo dell'energia che è più basso gli americani stanno a 30 euro megawattora mi sembra in Asia siamo su 180 noi siamo a oltre di 300 chiaramente tu vai a cercare il luogo dove l'energia ti costa meno è inevitabile questo questa è la conseguenza del conflitto in corso dove a mio avviso gli Stati Uniti non sono riusciti ad ottenere almeno sino ad oggi l'obiettivo principale cioè quello di far crollare la federazione russa l'obiettivo è quello di riportare la federazione russa agli anni 90 per poi poter andare all'obiettivo principale che è la Cina ad oggi questo non è riuscito e gli Stati Uniti che sono molto pragmatici nelle loro cose si sono fermati e con la crisi in corso stanno cercando di scaricarla interamente sull'Europa e ci stanno riuscendo questo è l'elemento centrale che sta vivendo la nostra politica oggi ultima domanda poi ti libero perché veramente ho detto io ti sentirei in loop ho detto veramente sarei lì perché adesso momento dovresti andare in televisione a ciclo continuo proprio una registrazione a tutte le ore ma allora riflettiamo un attimo su quello che abbiamo detto fino ad adesso e traiamo una conclusione che esula un po' dal tuo ruolo di analista ma comunque di persona che è profonda conoscitrice di tutte queste realtà perché uno che analizza queste situazioni non è che sono specializzato in energia perché in energia sono tantissimi in altri aspetti perché io per esempio quando ho intervistato Maria Sakarova le ho chiesto signora Sakarova ma alla fine perché avete aspettato otto anni per intervenire in Ucraina sapendo che prima o poi quella situazione sarebbe precipitata e viceversa sapendo quello a cui dovevi andare incontro perché non trascinare ulteriormente questa situazione no? cioè che cosa sapevano i russi cioè perché noi è chiaro che se Putin viene definito come un pazzo scatenato no? questo è una qualcosa di irrazionale lo fai di getto no? di pancia ma siccome le persone che conoscono il mondo che conoscono la federazione russa ma soprattutto che conoscono Putin sanno che è tutto fuorché è una persona che ragisce ma ma è un calcolatore scientifico uno scacchista cioè che prima di muoversi ha calcolato quante più mosse possibili no? cioè a un certo punto cioè sapendo quello che sarebbe successo cioè perché è intervenuto? perché non ha lasciato ancora un po' di tempo un po' di margine per vedere qual è la situazione? cioè perché è intervenuto? allora in primo luogo io quell'intervista quella con la Zakharova molto bella l'ho vista quest'estate quando ero in Grecia con la mia famiglia e se posso permettermi di dire una cosa a riguardo io credo che i russi non siano intervenuti nel 2014 anche negli anni seguenti per un contesto internazionale che allora non gli permetteva di ricevere quell'aiuto e quel sostegno internazionale che invece per sopportare le sanzioni non avrebbero retto all'urto delle sanzioni allora l'urto delle sanzioni non era ancora sostenibile da parte loro che da allora si sono mossi facendo appunto delle scelte in campo interno diciamo così che tenesse appunto conto di questa situazione cioè nel 2014 la federazione russa si rende conto che l'Unione Europea non tanto gli Stati Uniti che conoscono molto bene ma l'Unione Europea è totalmente inaffidabile perché alla fine dei conti è totalmente subalterno agli Stati Uniti d'America per cui nel 2014 loro intraprendono una serie di politiche per rendersi il più possibile autonomi ma ciò non è sufficiente è necessario un contesto esterno diverso e il contesto esterno diverso è in primo luogo ma non solo la Cina sono trascorsi otto anni da allora la Cina è cambiata molto è cresciuta tantissimo ma non soltanto la Cina la reazione dell'India è paradigmatica da questo punto di vista ma anche quella di altri paesi penso a un paese che noi non consideriamo il Vietnam stiamo parlando di un paese di 97 milioni di abitanti con una crescita del 7% all'anno in piena industrializzazione tra l'altro quando ci andai mi impressionò quel paese impressionante con tantissimi imprenditori italiani tra l'altro che stanno facendo affari per poi non dire la stessa Africa e l'America Latina che anche essa ha dato un sostegno alla Federazione Russa se non diretta come certi paesi in maniera indiretta non prendendo una posizione schiacciata sugli Stati Uniti d'America quindi il contesto internazionale allora non permetteva quello che invece è stato possibile da quanto vediamo sino ad oggi nel 2022 da quelle che sono però le mie informazioni un po' più sullo specifico io so che al 19 febbraio del 2022 5 giorni prima dell'inizio dell'operazione era stato trovato un accordo tra Putin tra Zelensky e tra Biden l'accordo con ogni probabilità vedeva il riconoscimento internazionale della Crimea come qualche vecchio americano ancora in vita centenario suggeriva e continua a suggerire premio Nobel per la pace sì premio Nobel per la pace nonostante il Cile e la neutralità dell'Ucraina quindi fuori l'Ucraina dalla Nato è un riconoscimento delle repubbliche un'autonomia da capire poi in che misura delle repubbliche dell'est dell'est ucraino 5 giorni prima il problema quando nasce quando Zelensky e Biden tornano dai loro come dire supporter politici ed espongono l'accordo raggiunto ebbene in quel momento Zelensky viene messo immediatamente sotto dalle frange più esplicitamente filo naziste del raggruppamento politico che lo sostiene è più filonato e nel contempo Biden va sotto all'interno del suo partito è facile capire chi non lo ha sostenuto ma anche qualche frangia repubblicana quindi trasversalmente Biden va in minoranza per cui sia Biden sia Zelensky non possono che riportare a Putin che l'accordo salta non regge con ogni probabilità i servizi russi erano anche consapevoli di un imminente attacco da parte ucraina che in quegli anni basta leggere i dati erano stati rifornite di immensi quantitativi di armi da parte della Nato e addestramento anche corpi che provenivano dalla Polonia dalle repubbliche valtiche e non soltanto anche dall'occidente anche svedesi anche finlandesi inglesi tedeschi qualche francese anche qualche italiano e 24 ore prima decide appunto di intervenire di giocare d'anticipo ma al 19 febbraio l'accordo era stato raggiunto questo è un aspetto che non vuole ricordare mai nessuno ma a mio avviso è importante e a dire il vero la stampa inglese lo ha pubblicato lo ha esplicitato nel nostro paese quasi nessuno se non sbaglio solo Mario Giordano in una delle sue trasmissioni su Rete4 una sera aveva tentato di tirar fuori l'argomento ma con poca fortuna da quello che ricordo sì no io questo posso portare anche la mia testimonianza dal campo perché è vero sì che le repubbliche hanno sempre millantato un organico di 40.000 uomini più realisticamente siamo sempre stati intorno ai 20 25.000 a fronte di truppe ucraine schierate l'intorno che andavano dalle 100 130.000 unità quindi c'è un rapporto nettamente avvantaggio più tutto il resto chiaramente chiaramente la federazione russa faceva da deterrente per lungo periodo di questa invasione però mettiamo caso che dall'altra parte è arrivato un ordine al quale non ci si poteva sottrarre che era l'ordine di invasione e io sapevo per certo che in Donbass si aveva la consegna di resistere per 24 no scusate per 48 72 ore perché chiaramente a quel punto sarebbero arrivati i supporters però chiaramente combattere una guerra da una posizione di completo svantaggio con i civili in Donbass con quegli altri che avanzano in contesti urbani sarebbe stato un disastro tant'è che noi ricordiamo quell'evacuazione di massa che molti hanno preso quasi per un gioco a favore di telecamera quindi stando anche alle informazioni che hai te insomma lì c'era un rischio concreto di invasione e a quel punto tu giochi d'anticipo inneschi quel meccanismo però dei quali i risultati erano ampiamente previsti dall'altro lato ed erano assolutamente auspicabili e progettati direi purtroppo non possiamo che auspicare che insomma il conflitto duri il meno possibile anche se ahimè temo che continuerà ancora per molto soprattutto se l'Europa se l'Italia la Germania la Francia non avranno la forza di fare un passo in avanti anche vedendolo in maniera come dire opportunistica di puri interessi economici personali perché è chiaro che qui noi stiamo parlando di vite umane dall'una e dall'altra parte che ripeto a mio avviso Papa Francesco ha da un punto di vista geopolitico descritto come dire in maniera lucida ecco non è esattamente la mia posizione ma è assolutamente lucida l'Europa deve cercare di fare di battere un colpo adesso e potrebbe secondo me farlo con l'aiuto della stessa Cina e credo che la Cina da questo punto di vista sarebbe assolutamente disponibile per potersi sedere attorno a un tavolo delle trattative lo scatto in avanti però l'Europa lo deve fare o lo deve fare in maniera chiara mi pare che i nostri rappresentanti politici stiano andando nella direzione opposta e quindi è chiaro che la federazione russa ne trae le conseguenze ci hanno fatto rimpiangere Angela Merkel perché io rimango dell'avviso che con Angela Merkel a cavallo una situazione del genere non era prevedibile non era nei fatti secondo me io ringrazio De Mostnes generosissimo come sempre ricordo il libro crisi o transizione energetica perché veramente tutto quello che ha detto e molto di più è contenuto qua dentro il libro precedente ricordiamo il titolo guerra e pace dell'energia la strategia per il gas naturale dell'Italia tra federazione russa e Nato sempre di arco seditore è uscito nel 2020 a febbraio quindi quando poi è scoppiata la pandemia la prefazione è di Lucio Caracciolo e la postfazione del generale Nato Giuseppe Cucchi questo per dire che anche in ambito appunto Nato e di grandi analisti che hanno opinioni diverse dal sottoscritto e che sono molto più rispettate del sottoscritto comunque già allora evidenziavano molte delle contraddizioni di cui abbiamo parlato oggi pomeriggio no ma assolutamente è così è così perché poi chi analizza e chi conosce i fatti le cose le sa al di là di quelle posizioni che poi si prendono pubblicamente quindi veramente grazie grazie a voi